Sono le 14 e 9 del 30 novembre 2023. Mi trovo a sud del comune Luco de Marzi a circa due chilometri. A Pami in Grandiera adesso vi faccio vedere. Guardate com'è bello il Luco de Marzi. E' bellissimo. A Pami mette la prima immagine. Ecco qui. Quello sotto la montagna. A meno che si vede tutto il paese. Però dice no perché così l'inquadratore avvicina. Però per vedere meglio il paese bisogna andare là sopra l'imboschimento. Poi se guardate in fondo guarda. Avezzano sembra che sta vicino ma in effetti. Per il Luco de Marzi aveva zanio, per la zona sopra là ci stanno 11 chilometri. A Pami era in piccolera.